In questo regolamento quello che non ci piace sono, quello che avevamo già denunciato sarebbe successo, le condizionalità macroeconomiche, quindi tralasciando l'aspetto di condividere più o meno i sei pilastri, le sei priorità di spesa, quello che viene scritto in questo regolamento è che a chi prenderà questi soldi verrà richiesto di rispettare le regole del patto di stabilità e crescita. Un controllo della traiettoria del deficit e per i paesi con un rapporto molto alto tra debito e pil come l'Italia un percorso di rientro di questa percentuale molto strong, molto forte. Quello che contestiamo noi, il motivo per cui ci spinge a stenerci è che questa cosa che già abbiamo sperimentato dal 2010, quindi tutto quello che finisce nella definizione di austerità, se e soprattutto applicata in un momento di crisi come questo rischia davvero di essere distruttiva. Quindi se da un lato in qualche maniera l'Unione Europea a parole vuole aiutarci, dall'altro in cambio di questo aiuto ci pone delle condizionalità che sarebbero devastanti. L'Italia oggi non ha necessità di prestiti a basso costo, la BCE ha fatto un po' il riassunto di quella che è stata la sua operatività nel 2020 e tutto il debito aggiuntivo italiano è stato acquistato dalla BCE, che ricordiamo è una forma di finanziamento ancora più conveniente rispetto a quella del debito europeo, quindi ad oggi l'Italia ha pieno accesso ai mercati a tassi bassi, ha la BCE che compra i suoi titoli e retrocede per la quasi totalità gli interessi poi al tesoro attraverso Banca Italia, quindi andare a indebitarsi soprattutto a queste condizioni, quindi con l'Unione Europea che ci dice quello che possiamo fare e in più ci chiede riforme a nostro avviso dannoso in cambio di questi soldi non è un'idea intelligente, non è nemmeno quello di cui oggi hanno bisogno gli italiani.